Seconda parte di mattino 6 e allora cominciamo a sfogliare i nostri quotidiani. Ripartiamo dal centro, dalla pagina 2 e 3, con vediamo l'appello di Monsignor Bruno Forte ai politici puntate sui valori dell'accoglienza. Marsiglio e Legnini intervengono alla presentazione del libro dell'Arcivescovo. Il governatore, non possiamo ospitare tanti migranti? Il consigliere, integriamoli. E poi, a pagina 3, troviamo questa sanità che sarebbe da migliorare. Mancano all'appello 2.400 infermieri. Il momento della verità a Pescara è con tutte le richieste dei rappresentanti delle quattro province. all'assessore Nicoletta Veri in basso. Si insedia il CRAM, la regione punta sugli abruzzesi all'estero. Andiamo alla pagina Abruzzo. La nuova sede a prova di sismo ha presentato i lavori di adeguamento del palazzo di Ottopiane in Piazza Unione, rinasce anche l'auditorium De Cecco di Spalla. Una notizia di servizio lunedì notte, chiusura in A14 e A24 a Vasto e ad Assergi. Qui intanto, come vediamo, si vedono alcune foto di come dovrà essere il palazzo della regione una volta ristrutturata, una volta messa a punto. Andiamo a pagina 16 perché c'è l'operazione che vi abbiamo raccontato anche ieri nel corso del nostro Tg usura e ditte fallite ai 13 indagati, sequestrati 7 milioni di euro. Società acquisite e trascinate verso il crack. Scoperto un prestito a strozzo a un market di Pescara, si giri anche a tre aziende che operano nel settore della ristorazione e della distribuzione del gas. Allora andiamo a fare il punto nel servizio che abbiamo realizzato con Paolo Renzetti. Un'operazione complessa che ha portato alla scoperta di un'azione di usura di bancarotta di proporzioni rilevanti. Partendo dal fallimento di due società di Città Sant'Angelo siamo riusciti ad appurare diverse condotte, ovviamente di distrazione di beni notevoli per 7 milioni di euro circa e poi di reimpiego di investimento di questi patrimoni illicidi in altre attività commerciali da cui poi è scaturito il sequestro di euro delle tre società interessate per circa 7 milioni di euro di valore del sequestro. Come ha detto lei giustamente abbiamo anche scoperto un grave e importante fatto d'usura che noi abbiamo definito usura d'impresa in quanto sostanzialmente un soggetto titolare di un supermercato è stato di fatto espropriato della sua attività in quanto a massimo di un prestito, anche di importo non elevatissimo si è trovato a restituire al 120% del prestito che aveva ricevuto. Peraltro, come dicevo prima, le modalità sono particolarmente inigue perché il rientro al prestito è stato chiesto in termini molto stretti quindi sostanzialmente ha un iniziale prestito bonario poi si è sostituito dopo qualche tempo questa richiesta pressante di rientro quindi non ha potuto far fronte e di fatto ha dovuto cedere la gestione del suo supermercato diventando da titolare dipendente dello stesso quindi sostanzialmente importante da questo punto di vista. Poi ovviamente abbiamo trovato il riempiego di questo denaro nelle tre società sequestrate per circa 7 milioni di euro quindi insomma l'operazione è oggettivamente rilevante. Questa è l'ultima in ordine di tempo di diverse operazioni del genere che avete portato e concluso brillantemente negli ultimi mesi? Sì, come dicevo, come diceva prima pure il comandante l'attenzione è massima da parte nostra ma anche dell'autorità giudiziaria locale sono contrariati economico-finanziari e nell'ultimo periodo dei fallimenti di tutti quanti i fenomeni di accumulazione di patrimoni illeciti quindi sì, già nell'ultimo periodo abbiamo sequestrato altre società sempre per i fallimentari anche seguito ordine di strade cautelare di carattere personale quindi insomma l'attenzione è massima quest'anno questa è la terza attività che facciamo del genere. E come vediamo la notizia la troviamo anche in apertura di pagina di Pescara del messaggero fallimenti seriali e usura per Di Matteo Junior nuovi guai per il 32enne figlio dell'ex assessore incappato in un'inchiesta con sequestri per 7 milioni dietro il crack di due società un giro di espropriazione aziendali come avete sentito in basso la mafia foggiana punta sull'Abruzzo l'allarme di Morra al premio Borsellino il presidente della commissione antimafia a Pescara con il vice ministro Vito Crimi inaugurato il monumento a pagina 41 rimaniamo sul messaggero niente stranieri corretto l'annuncio l'agenzia corre ai ripari dopo le proteste per la pubblicità immobiliare di tono razzista i progetti luci semafori contapersone nei parchi Pescara in marcia verso la città smart cambiamo pagina andiamo alla questione del processo di Rigopiano perché ieri c'è stata rabbia per l'udienza a vuoto il dolore non si rinvia e non si prescrive in tribunale i manifesti per il comitato vittimo una notizia questa che troviamo anche sulle colonne del centro come vediamo Rigopiano rinvio e striscioni 29 morti non scioperano mai l'udienza slitta al 29 novembre la protesta dei familiari delle vittime contro l'astenzione degli avvocati ovviamente la tragedia del resort un processo così complicato dice il presidente del comitato non può essere celebrato una volta al mese e allora anche in questo caso andiamo a vedere il servizio oggi sciopero nazionale dei penalisti è saltata l'udienza per la tragedia di Rigopiano al tribunale di Pescara c'è uno striscione che dice 29 morti non scioperano ma vogliono giustizia esattamente quello è il pensiero di tutto il comitato perché facendo in questo modo non si fa altro che allungare i tempi dei processi quindi questo è quello che noi vorremmo assolutissimamente evitare siete amareggiati? amareggiati, delusi sicuramente sì però sempre pieni di forza noi non ci arrenderemo quindi saremo sempre presenti c'è anche una problematica che avete posto questa mattina che è quella della prescrizione un rischio prescrizione e comunque di un allungamento dei tempi ma vedete qualche anno fa la sentenza della Cassazione è emblematica per quanto riguarda l'aspetto del processo sull'Eternet quindi non possiamo aspettare che cada la spada di diamo su un processo così importante e grave le stragi colpose i reati per l'ambiente devono avere una corsia preferenziale e sotto questo aspetto il coordinamento nazionale ha consegnato al Ministro della Giustizia Bonafede un documento il quale Bonafede, il Ministro gli diciamo grazie perché ha preso questi nostri punti li ha portati avanti semplicemente adesso isolato in quanto le altre forze politiche che sostengono questo governo e quelle che sono all'opposizione non vogliono questa riforma del processo penale noi riteniamo che questo è una battaglia di civiltà una battaglia di equità per gli ultimi per i cittadini che hanno perso dei figli degli zii familiari delle vittime in genere e quindi noi sosteniamo questa battaglia che porta avanti il Ministro della Giustizia e speriamo che anche altri cittadini altri comitati sposano con noi questa iniziativa Gianluca Tanda voi continuerete ovviamente a seguire passo dopo passo questo processo questa vicenda giudiziaria sì saremo vigili sempre come abbiamo dimostrato con i dovuti modi perché noi siamo persone civili ma ne investeremo civilmente ma ci faremo sempre comunque sentire forse alzando un pochino i toni ma mai violenti questa è fondamentale la base del nostro comitato uniti si va avanti vigileremo sull'operato di tutta la magistratura dei nostri avvocati degli avvocati e degli imputati questo sarà il nostro compito fino alla fine andiamo avanti adesso rimaniamo sulle colonne del centro pagina 19 trovata cassaforte di soldi e gioielli ladri rubano il forziere in una casa di via Collemarino e lo fanno cadere dal balcone l'arrivo della polizia li mette in fuga altre notizie ferisce un agente giovane in cella in corso vittorio non voleva dare i documenti a Porta Nuova un arresto per furto via del circuito no alla strada bis c'è il rischio che il fiume straripi i residenti contro il nuovo progetto anti-smog in basso Borsellino premiazione stamane cerimonia al massimo in comune i studenti incontrano Morra Crimi e Savina ci spostiamo a via Pindaro i pompieri comprano la sede arriva l'ok da Roma per l'acquisto dell'immobile della provincia salta così il progetto del trasferimento alla Tiburtina e poi nell'ex cofa un politecnico dell'università ma ci svela altri particolari del piano pronti 15 milioni dell'ANAS per allungare l'asse fino al porto a pagina 21 luci più forti nelle strade per aumentare la sicurezza proseguono i lavori per cambiare i vecchi lampioni ora tocca la zona del centro il vice sindaco Santilli in arrivo i nuovi semafori uno anche per la riviera nord in basso salute e sicurezza l'UGL in visita in città il sindacato incontro all'assessore Berì ed effetto un tour all'ospedale e nelle altre strutture sanitarie musei parchi e telecamere per contare i visitatori installati apparecchi elettronici per rilevare gli accessi nelle proprietà comunali l'assessore Albore Mascia così miglioriamo sicurezza e programmazione e poi andiamo a Montesilvano la manifestazione calcio acrobatico la città in corona il campione italiano domani 20 freestylers professionisti si sfideranno a colpi di musica e palleggi il vincitore vola ai mondiali a Miami poi lettera dalla scuola questa bella iniziativa la piccola Angelica scrive al sindaco ci sono troppi rumori qui vediamo tornando sui freestylers chi sono gli atleti che spopolano sui social con i video delle loro evoluzioni raggiungono anche migliaia di followers l'assemblea nuova pescara Costantini ritira la sua candidatura commissione statuto il centro destra pescarese si spacca sul nome proposto dal sindaco il promotore il referendum si tira indietro in pole Cozzi fiorilli pioggia di critiche e poi cosa ci unisce la nostra umanità l'is alessandrini la lezione di don mattia il prete sulla nave che salva i migranti dramma a francavilla lite al semaforo automobilista è grave il sorpasso gli insulti e poi il confronto quando è scattato il rosso il 64enne di francavilla in prognosi riservata per un pugno il precedente l'11 luglio scorso a Pescara in Viale della Pineta morì Tiziano Paolucci siamo a penne Brioni con la lana abruzzese capi d'alta moda a chilometro zero bomber trench giacche e pantaloni realizzati con tessuti ricavati da pecore locali così la celebre Maison rinsalda il legame con penne sede del confezionamento delle sue confezioni delle sue collezioni a letto manopello bimbi senza sostegno genitori in piazza dall'ufficio scolastico nessuna risposta alla richiesta di maestre per i bimbi disabili andiamo a Chieti adesso confermati 12 anni all'allenatore pedofilo Furguele condannato anche dai giudici di secondo grado abusò di 9 piccoli atleti a casa al campo e in trasferta i familiari delle vittime vogliamo vederlo in galera il procuratore generale Pietro Mennini chiede ottiene la conferma della pena inflitta dal tribunale di Chieti l'imputato ai domiciliari non si presenta in aula le tappe dell'inchiesta le manette scattarono nel marzo del 2017 siamo ad Atessa Sevel contro i nuovi turni ora sciopera anche la FIM Atessa l'assessore regionale Febbo sbagliato protestare in questo momento Fegatelli della FIOM prima di parlare vai a lavorare alla catena di montaggio a San Salvo Denso il piano investimenti resta però ancora un mistero a Ortona strisce blu al mare l'estate porta in casa più di 100 mila euro maggiore entrate per oltre 20 mila euro sul 2018 a Teramo la Savini tornerà nella sua sede storica via libera della giunta d'Alberto al recupero dell'edificio in centro ci sono 4 milioni e 400 mila euro serviranno 4 anni di lavoro nel segno del 4 insomma sbloccate due scuole deciso anche l'intervento di miglioramento sismico della De Jacobis che costerà 2,4 milioni di euro e poi questa notizia curiosa e particolare vince la causa con una finanziaria che gli chiede un debito che però non ha e protagonista un 85enne Teramano in basso Tortoreto punta sul giro spot d'eccellenza per il turismo ultimi 50 km di corse in Val Vibrata il 19 maggio la Corsa Rosa arriva in Abruzzo Silvi si farà martedì il consiglio aperto sulla pista ciclabile l'amministrazione l'ho fissato all'hotel Abruzzo Marina ogni associazione potrà parlare per 10 minuti altre notizie a Pineto alunno con la scabbia la scuola rassicura il preside a voglio niente allarmismi contagio facile contagio non facile nella comunità scolastica e in basso il tar da ragione ai camperisti Roseto accolto il ricorso contro il comune per l'utilizzo di un'area sul lungomare all'Aquila per l'occupazione call center sciopero per il posto di lavoro Sindaco Pezzopane e Palumba a fianco degli operatori Biondi la città non può perderne neppure uno e poi ci sono le storie di chi lavora proprio ai call center in basso 70 anni in toga premio a Cecchini l'Aquila la cerimonia l'8 novembre all'emiciclo Terminal Anagnina scoperte le carte stazione sfrattata a pendolare in allarme ecco la delibera del comune di Roma che smentisce le rassicurazioni della raggi e conferma le paure dell'Abruzzo e poi Davezano truffa col pacco agli anziani due arresti la polizia coglie sul fatto due napoletani che stavano per farsi dare 2.200 euro da una 75enne in basso cocaina una giovane coppia finisce in manette sul Mona ricercato un 34enne e sfuggito alla cattura secondo la finanza è la mente dello spaccio torniamo sul messaggero e torniamo anche sull'Aquila e sulla questione col center posti a rischio sciopero e mobilitazioni timori per la gestione della commessa dell'Inps comdata vorrebbe tagliare 130 unità lavorative Luca Sacchi forse sarà sepolto a Montereare i genitori del ragazzo uccisi a Roma sono originari del comune Aquilano lo sgomento di parroco e sindaco in basso non ordinò l'attac e allora un dentista viene condannato cambiamo pagina andiamo a pagina 45 via Leovidio palazzetto pronto nel 2020 il completamento della ristrutturazione in due fasi adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria l'assessore Fabrizi l'infrastruttura sarà antisismica e potrà servire anche come ricovero in caso di calamità a centropagina affare centro progetti approvati ora altri soldi in basso altre notizie l'Iris a confidi erogheremo i fondi e poi fondazione Cari Spaccheletti Marinelli e Iucci il premio di poesia ai detenuti di Preturo e poi torna l'Osa al ridotto diretta da Allegrini traffico di droga presi due fidanzati l'operazione deriva dalla partita di stupefacente trovata nel garage dell'economo comunale arrestato con il corriere su richiesta del PM il GIP ha emesso tre ordinanze in carcere in fuga il presunto capo Massimiliano Le Donne che è ricercato piazza del mercato e lavori dubbi sul progetto sempre siamo ad Avezzano ad Avezzano i detenuti del carcere coltivano gli orti urbani e poi pacchi truffa agli anziani bloccati due campani a Chieti piano commercio Forza Italia vuole tre modifiche o niente voto scure della Corte dei Conti 10 milioni di euro andavano eliminati cinque anni fa a Marzoli fa nascere il gruppo Italia Viva sia al nuovo no vecchia classe dirigente e poi sarà anche questo un weekend ricco di sagre e momenti conviviali a Chieti in basso ragazzini abusati allenatore condannato 12 anni in appello per pena confermata in appello per Riccardo Furgioele a pagina 49 parcheggio Sant'Egidio arriva a Megatorre l'opera servirà da collegamento con i quartieri storici sia a Lanciano di Civitanova e Sacca lavori al via la prossima settimana la struttura firmata dall'architetto di Biase ha convinto la soprintendenza Pupillo puntiamo verso l'eccellenza di Spalla Sasi gli aumenti delle bollette dell'acqua saranno retroattivi viene definita giustamente una stangata a vasto la società Cerella in default disagi per gli studenti pendolari a vasto segnaletica stradale ci pensano i detenuti a Teramo nuovo ospedale il referendum per rifarlo dove il referendum per rifarlo dove è il Marzini in iniziativa di futuro in concordano i 5 stelle ben 40 associazioni piano d'accio troppo delocalizzato non sbagliare come con l'università e allora a tal proposito vediamo la doppia pagina della città nuovo Mazzini a Villa Mosca il progetto che non c'era adesso c'è peraltro tra poco vi faremo vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato ieri che riguarda la richiesta di un referendum proprio per decidere dove fare il nuovo ospedale mentre in città si dibatte ancora su dove delocalizzare Futuro In propone una demolizione con ricostruzione in un modernissimo non so comio proprio nello stesso quartiere come vediamo c'è anche la vista rendering di quello che dovrebbe essere il nuovo Mazzini visto da ovest e questo è visto da sud in basso vediamo il dibattito che è ovviamente ampio verna contraria a Villa Mosca e al banchetto del Movimento 5 Stelle che rilancia 36 associazioni chiedono di mantenere l'ospedale a Villa Mosca e poi un referendum per modificare la scelta un comitato chiederà di modificare la delibera approvata a luglio 2017 per fare il punto della situazione vediamo il servizio della nostra redazione Teramo dovrà presto decidere dove realizzare il nuovo ospedale per il quale sono stati stanziati dal Ministero della Salute 82 milioni di euro e in città si alzano i toni del dibattito associazioni comitati di quartiere movimenti politici lanciano una battaglia referendaria per coinvolgere direttamente la cittadinanza su dove costruire la nuova struttura ma facciamo un passo indietro nel 2017 il Consiglio Comunale con l'attuale Sindaco Gianguido D'Alberto aveva già votato all'unanimità che il nosocomio di nuova costruzione rimanesse all'interno del Comune Teramano senza però specificare esattamente il sito l'Asla di Teramo ha poi individuato e proposto l'area di Piano Daccio con un project financing e un costo di 250 milioni di euro per la struttura sanitaria oggi Futuro In lista di opposizione al Comune di Teramo concretizza il dibattito presentando una proposta di progettazione che prevede l'ampliamento del vecchio Mazzini a Villa Mosca opzione che costerebbe la metà di quella prevista a Piano Daccio circa 120 milioni di euro che raggiungerebbe gli stessi standard e che non creerebbe così un vuoto urbanistico nell'area dell'ospedale Mazzini una battaglia referendaria per dire che l'ospedale di Teramo deve restare a Villa Mosca Senza dubbio sì credo che lo strumento di democrazia diretta sia il più adatto per decisioni importanti come queste quindi lo Statuto lo prevede noi andiamo avanti su questa via Quanto costerà farlo restare a Villa Mosca? La metà di quello che costerebbe andando su un'area nuova perché si vanno a risparmiare tutta una serie di costi ci sono delle strutture esistenti ad esempio il parcheggio che appunto non andrebbero costruite ci sono i sottoservizi già esistenti l'area è di proprietà della ASL quindi non si deve acquistare nessuna area si risparmia la metà diciamo che se nell'area di Piano Daccio la proposta Pizzarotti mi sembra fosse intorno ai 200 milioni di euro ecco qui siamo sui 120-130 quindi già 80 ne ha già la ASL viene fuori un project una proposta del privato molto più light rispetto molto più leggera rispetto a quella che magari poteva venire fuori in un'area ex novo senza nessuna struttura senza sottoservizi o peggio da acquistare intanto nel fine settimana scenderanno in piazza anche i 5 Stelle che hanno previsto banchetti nel centro storico di Teramo per la raccolta di firme a favore dell'ospedale a Villa Mosca per i pentastellati si tratta di una battaglia che non ha colore politico ma di una scelta fondamentale per il futuro del capoluogo sulla quale la cittadinanza deve esprimersi al sindaco cosa chiedete? beh di darci una mano mi sembra ovvio credo che questa sia una battaglia nell'interesse della città e non non è una battaglia di fazione o di parte è un qualcosa che dovrebbe interessare tutti è un qualcosa che l'amministrazione a mio avviso dovrebbe fare e dovrebbe aiutarci a fare e allora continuiamo la lettura tornando sul messaggero rimaniamo sempre a terra pulizia delle scuole 200 posti di lavoro sono a rischio a Nereto botte la compagna due donne ritirano le querele in basso in vibrata via d'annunzio a Tortoreto resta ok ma scompare la pista ciclabile per il commercio ha lanciato i finanziamenti a 58 imprese per un milione andiamo a Giulianova con le parole di Pietro Tribuiani qui la Lega deve essere svecchiata dopo il ritiro del ricorso sulle elezioni di Costantini Tribuiani si sfoga bisogna fare pulizia rinnovare farò opposizione ci sono troppe feste e pochi lavori il PD chiara impronta di centrodestra nella maggioranza e poi sempre a Giulianova il Natale comincia con Halloween maratona di eventi e tante sorprese apriamo adesso la pagina dello sport partendo ecco qua dal Peschiara che gioca questo pomeriggio alle ore 15 vediamo Zauri che lancia questa è la novità più grande di formazione lancia Borrelli il tecnico inizia il ciclo terribile con la capolista Benevento all'Adriatico il Millennial punto di riferimento in attacco con Galano e Macin dietro notizia questa che troviamo anche sulla doppia pagina del centro Pescara Benevento Zauri cambia per il rilancio in attacco Borrelli scalpita via il 3-5-1-1 si passa al 4-3-2-1 il tecnico il futuro mi sento sempre in discussione ha detto tra poco lo sentiamo vediamo allora questo 4-3-2-1 questo albero di Natale Fiorillo tra i pali torna dopo il forfè contro lo Spezia in difesa Ciofani Bettella Scogna Miglio e Masciangelo Memusciai Palmiero e Busellato a centrocampo Macin e Galano alle spalle proprio di Borrelli con Brunori e Maniero che vanno in panchina vediamo anche le scelte di formazione per quanto riguarda il Benevento di Filippo Inzaghi Montipò tra i pali Maggio Tuia Caldirola e Letizia in difesa Insigne e Viola e Temai e Improta a centrocampo attacco pericolosissimo Massimo Coda e Marco Sau insomma è un attacco che ha tantissimi gol nel Carniere comunque noi rimaniamo in ambito Pescara e andiamo ad ascoltare i passaggi salienti della conferenza stampa del tecnico Biancazzurro Luciano Zauri di ieri pomeriggio ma la settimana è stata insomma molto curata chiaramente l'umore è dei migliori visto la sconfitta i ragazzi stanno bene quindi mi riservo di valutare tra oggi e domani possiamo fare entrambe le cose quindi non c'è un motivo che mi fa propendere per uno o per l'altro sistema credo che in una squadra di calcio si debba parlare non siamo c'è il re comanda qui quando si parla ognuno con la giusta educazione e giusto rispetto può dire quello che pensa io ho detto la mia chiaramente quello che pensavo come ho sempre fatto ma non da perché alcune cose voi le avete viste probabilmente lunedì ma io con la squadra parlo da luglio per cui se vogliamo dare un risalto a una chiacchierata più lunga dopo la sconfitta lo possiamo fare ci mancherebbe altro ma quando abbiamo vinto abbiamo parlato anzi si parla molto di più dopo le vittorie dopo le sconfitte l'abbiamo detto tempo fa io sono in discussione esattamente come tutti i allenatori di calcio se fai bene rimani se non fai bene le case si fanno dalle fondamenta non si fanno dal tetto per cui le case si costruiscono dalle fondamenta i campionati si costruiscono con la salvezza dopo la salvezza si pensa a qualcos'altro ma mi sembra una cosa molto molto serena e tranquilla non abbiamo mai litigato il Presidente questa cosa mi gioco la salvezza in questo momento perché penso sia il primo step da raggiungere inoltre raggiunta la salvezza pensiamo a qualcos'altro ma non sto dicendo niente di particolare è chiaro sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno perché comunque è una squadra che ha preso pochi gol spesso vince 1-0 2-1 una squadra molto solida che concede poco ha tante armi da cacci piazzati ha tantissime eseduzioni per poter farmare l'avversario e noi abbiamo delle qualità abbiamo tanta qualità in mezzo al campo insomma l'elemento sulla carta ha qualcosa in più di noi però chiaramente abbiamo le nostre armi e vediamo domande se riusciremo a batterli anche io ho visto un po' di partite e hanno veramente tutte le caratteristiche sono bravi quando difendono bassi e ripartono quando decidono di attaccare un po' più altri hanno tanti giocatori con tante caratteristiche appunto e possono fare quello che vogliono quindi non so come interpreta Inzaghi la partita è chiaro che dovremmo essere bravi quando verremo attaccati ad uscire con qualità o andare sulle seconde palle insomma dobbiamo interpretare velocemente quello che l'avversario ci proporrà e sempre questa è la soluzione ai problemi che gli altri poi ci vengono a creare insomma e vedremo come andrà questo pomeriggio intanto il caso Macin Sebastiani e Falcogno prosciolti la sentenza del Tribunale Federale ammenda di 3.000 euro al club biancazzurro per responsabilità oggettiva da Benevento e si torna alla partita 1.332 tifosi Inzaghi dice gara dura classifica del Delfino Bugiarda notizia questa sul caso Macin che troviamo anche ovviamente sulle colonne del messaggero Sebastiani archivia il caso Macin un finale già scritto andiamo nell'altra pagina perché siamo in serie C il Teramo vede i ora vede i playoff contro la Casertana Nuove Orizzonti bombaggi e carico il gol aiuta sempre Costa Ferrera non al top ma ci sarà rientrano Cancellotti Mungo e Magnaghi a proposito di Teramo vediamo come affronta l'argomento bianco-rosso il centro Tedino rilancia Bombaggi dall'inizio Bombaggi che dice Teramo avanti così il trequartista tra i titolari domani contro la Casertana stiamo in grande avevamo solo bisogno di tempo vediamo un po' di serie D verso il derby domani ce ne saranno tre Delfadini Chieti in attacco Cebruni Giulianova difesa inedita Teatini senza Ricci Venneri e Traini Grandoni costretto a ridisegnare la squadra l'ex del grosso pensa al 3-5-2 rilancia dolce Avezzano si aggrega De Carolis a proposito di serie D vediamo anche sul messaggero ecco qua andiamo proprio sulle colonne in basso Chieti voglia di riscatto a Giulianova pesante l'assenza di Traini la società contatta Ortona per giocarci due gare Puglielli siamo ad Avezzano Avezzano combattivo a Pineto già sfidati in Coppa hanno un'ottima difesa tanti tifosi al seguito e nell'altra pagina Vastese domani giornata Bianco-Rossa in casa Aragonese per il terzo derby di giornata contro il Notaresco continuiamo con il centro la chiusura che diamo al basket ecco qua Pieric il nonno degli Sharks a 38 anni il capitano è ancora determinante domani andremo a Verona senza nessuna paura Roseto va nella tana della capolista bene questa era l'ultima notizia per questa mattina io vi ricordo gli appuntamenti a partire dalle 14 con la prima edizione del nostro TG oggi leggermente più compressa perché poi alle 14.30 daremo spazio a diretta stadio al pre-gara di Pescara Benevento vivremo la partita insieme poi il post partita in diretta con le interviste mattino 6 invece torna lunedì mattina sempre puntuale alle ore 8 buona giornata e buon fine settimana grazie a tutti Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione. Siamo pronti per andare a sfogliare i quotidiani che trovate già in edicola, in questa prima parte come di consueto partiamo con le prime pagine, iniziamo dal centro edizione di Pescara. Questa è l'apertura dedicata alla cronaca, automobilista grave per un pugno, Francavilla, lite al semaforo, 64enne ferito, identificato l'aggressore. In alto, Rigopiano, la rabbia dei parenti, 29 morti, non fanno sciopero, astenzione agli avvocati, salta l'udienza. Sanità in Abruzzo, mancano all'appello più di 2400 infermieri. E poi l'arcivescovo, libro dell'arcivescovo Forte, commentato da Marsiglio e da Legnini. Scendiamo a centro pagina con la fotonotizia che riguarda l'omaggio di Pescara ai magistrati Falcone e Borsellino. Come vedete oggi cerimonia al massimo, il monumento dedicato ai due magistrati inaugurato ieri in questura. All'interno, lavori alla sede di Pescara della Regione, nuovo palazzo a prova di terremoto, presentato il maxi intervento di adeguamento. Sempre a Pescara, i vigili del fuoco comprano la sede di Viale Pindaro. E poi, nuova Pescara, Costantini ritira la candidatura. In basso, sotto la foto, usura e società fallite, 13 indagati, sequestrati 7 milioni di euro e 3 aziende, finisce nei guai Luca Di Matteo. In basso, oggi è anche giornata dedicata al campionato di Serie B. Torna in campo il Pescara, Zauri cambia e lancia Borrelli. All'Adriatico arriva il Benevento alle 15, passaggio al 4-3-2-1 con il baby attaccante titolare. Vi ricordo, dunque, l'appuntamento di questo pomeriggio a partire dalle 14.30 con Andrea Costantini, con Diretta Stadio, Paolo Renzetti dallo Stadio Adriatico per vivere la partita dei bianco-azzurri di Luciano Zauri, che devono assolutamente riscattarsi dopo il passo falso di una settimana fa contro lo Spezia. Questa notizia, che in realtà è una notizia di servizio, è che domani torna l'ora solare. E allora le lancette tornano un'ora indietro. Restiamo sul centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. Anche qui l'apertura è dedicata alla cronaca, giudiziare a 12 anni all'allenatore pedofilo. Condanna confermata, i genitori dei bimbi dicono ora vada in galera. A centro pagina, Sevel sciopera anche la FIM su nuovi turni e sabato obbligatori. A Tessa Febo dice, è sbagliato protestare, FIOM vai alla catena di montaggio. All'interno, questa è una notizia che abbiamo già letto, dei lavori di adeguamento al palazzo della regione a Pescara, a Lanciano acqua 30 euro a famiglia, l'aumento medio. A Ortona, strisce blu al mare, incassati 100 mila euro. E poi, Civeta, polveri nell'area dopo il rogo, Cupello, discarica a fuoco. Il comitato cittadino e i residenti hanno respirato i fumi. In basso per lo sport, Chieti, in attacco torna Bruni. Serie D verso il derby di domani con il Giulianova. Nero-verdi rimaneggiati, Grandoni ridisegna la squadra. E poi, per la storia, Adri ricorda Baiocchi, Labruzzese, Garibaldino. L'edizione di Teramo del centro, questa è l'apertura. La scuola Savini tornerà dove era. Ricostruzione, c'è il via libera anche ai lavori alla De Jacobis. E poi, Tortoreto, in foto, pregusta la tappa del Giro d'Italia. È un grande spot turistico. In Val Vibrata si correranno gli ultimi 50 chilometri. Entriamo all'interno. Teramo, debito fantasma. Anziano batte una finanziaria dopo la causa. A Silvi, nuova ciclabile. Consiglio aperto ai cittadini. E poi ci spostiamo a Nereto, a processo salvato dai familiari, genitori e compagni allo scaggione in aula dall'accusa di maltrattamenti. In basso, per lo sport in Serie C, Bombaggi, Teramo, Vai Così, trequartista, tornerà a titolare contro la Casertana. Partite di domani alle 17.30. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, col center, sciopero per il lavoro, l'Aquila, il sindaco, Pezzo Pana e Palumbo a fianco degli operatori. La foto. 70 anni in toga. Onorificenza per l'avvocato Cecchini. Cerimonia all'8 novembre all'emiciclo. Il terminal della discordia, Anagnina. Ecco le carte della stazione sfrattata. Poi Sulmona, droga, coppia in cella, 34enne, però riesce a fuggire. In basso, truffa un'anziana, siamo ad Avezzano, due arresti, i napoletani sorpresi in casa della 75enne, volevano spillarle 2.200 euro. In basso, per lo sport Avezzano e l'Aquila, volti nuovi, ai marsicani si aggrega De Carolis, Rugani preso dai. Rosso, blu, ovviamente campionanti diversi, come vedete, serie D e promozione. Cambiamo quotidiano. Andiamo sulle colonne del messaggero. Questa è l'apertura. Banca rotta, indagato Di Matteo Junior, il figlio dell'ex assessore Neguai, per un giro di fallimenti e usura. Sequestri per 7 milioni. Dietro il crack di due società, una serie di espropriazioni aziendali e prestiti a imprese. In crisi di questo, vedremo poi il servizio. Nel box, discriminazioni, niente stranieri, corretto l'annuncio. In alto, sotto la testata, anche qui Rigopiano, udienza rinviata ai familiari, il nostro dolore non fa sciopero. A Lanciano nasce in centro, una torre alta 28 metri, via ai lavori. Per lo sport, Pescara, Zauri, Lancia, Borrelli, titolare contro la capolista, oggi alle 15. Dentro il Millennial, Sebastiani e l'assoluzione, per il caso Maccina, era un film con un finale già scritto subito di spalla. Eletto il cram, si occuperà degli abruzzesi nel mondo. Scendiamo. La fotonotizia, call center, posti di nuovo a rischio, mobilitazione all'Aquila per il taglio di 130 lavoratori. E poi, a fianco, fidanzati in cella, dopo l'economo, finito in manette. Droga, due insospettabili. Nell'inchiesta c'è un altro complice, sfuggito però alla cattura. In basso, scontro in regione sui maestri di sci, parliamo di contributi. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo in provincia di Teramo, più specificatamente, con il quotidiano La Città, con questa apertura un po' particolare. Pronto, Don Matteo, sono il Papa. A che cosa si riferisce questo? Dopo la reliquia al Sacro Cuore, il Pontefice in persona invita la parrocchia ad un'udienza privata a Santa Marta. In alto, in provincia si cambia, il piano neve è triennale, 930 mila euro fino al 2021. La foto, nuovo Mazzini a Villa Mosca, presentato il primo piano per la demolizione e ricostruzione dell'ospedale. In basso, il PD Giuliese, la rinuncia al ricorso elettorale, segna la reunion del centrodestra ciclismo. Il Giro d'Italia sarà una vetrina per la Val Vibrata e per tutta la costa. Andiamo adesso sulle colonne dei quotidiani nazionali per vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Corriere della Sera, Luca ucciso, lite per la droga. Rabbinato, mentre comprava con la fidanzata, fermati due ventenni. Uno dei ragazzi, denunciato dalla madre e dal fratello, Gabrielli, non è la storia di uno scippo. In alto, per la politica nazionale, sfida in Umbria, primo test per il governo, Conte, non è il futuro. Salvini, pacchia finita. E poi l'Argentina, le lacrime, Cristina sogna il ritorno. Cristina Kirschner in corsa come vice di Fernandez. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica. Il ragazzo ucciso, anche qui, droga capitale. Non è stato lo scippo di uno zainetto a provocare l'omicidio di Luca Sacchimo. Un acquisto di stupefacenti finito male. Arrestati due ventenni. La madre di uno di loro li ha denunciati alla polizia. Meglio in cella che tra i pusher. Il dossier shock della procura a Roma, 30 piazze di spaccio, se ne vende a tonnellate. E poi per la politica, la sfida in Umbria. Si vota domani la foto di gruppo dei giallorossi, Di Maio e Zingaretti. Prima volta assieme. Obiettivo ridurre le distanze dal centro-destra. Il messaggero, la pagina nazionale, ucciso per la droga, presi i killer per la morte di Luca Sacchi. Fermati due pusher di San Basilio. Uno di loro ha confessato. I PM mazzette di denaro nello zaino della ragazza. Volevano rapinarli senza consegnare l'ascis. In alto per lo sport, questa bella notizia. Berrettini entra nella top ten. I Masters di Londra ora sono ad un passo. Master di Londra che chiudono la stagione. Scendiamo a centro pagina, si vota in Umbria. Conte non è un test, Salvini ora a casa. E poi lo sciopero dei trasporti a Roma. Paralisi Roma, raggi, spacca il governo. Sciopero di AMA, raccolta rifiuti e ATAC. Trasporti, Movimento 5 Stelle contro i sindacati. Zingaretti li difende. Andiamo avanti. Il tempo. Povero ragazzo, ma non sparate tutti su Roma. Gabrielli, non siamo a Gotham City. Per il PM c'è una storia di droga dietro il delitto. Il capo della polizia se lo lascia scappare e i politici, Salvini in testa, lo mettono in croce. E poi, anche qui, domani il voto, la foto dei disperati, triste e sfilata di governo in Umbria. Il centro-destra parte avanti. E poi un post di elemosina per i commercianti. Credito d'imposta sui pagamenti elettronici. Bonus al 30% sulle transazioni dal 1 luglio. Il mattino. Allarme carceri, Colabrodo, entrano 5 cellulari al giorno. Dati shock dopo l'atto d'accusa del procuratore di Napoli, Melillo. E poi a centropagina. Vivere sotto il cavalcavia piovono pietre e bulloni. Questa è la testimonianza di chi abita proprio sotto la tangenziale. Ovviamente siamo a Napoli. Roma, Luca ucciso per la dose di droga, arrestati i killer. La stampa che avre con la politica. Franceschini con il Movimento 5 Stelle per governare a lungo. In Umbria il primo passo. Annarni, Di Maio, Conte, Speranza e Zingaretti assieme per la prima volta. E poi la madre denuncia il figlio presi gli assassini di Luca Sacchi. Ecco qua la foto. E poi l'analisi di Flavia Perina che si titola Sognando Gomorra. Il manifesto Umbre Rosse per la chiusura della campagna elettorale. La maggioranza giallorossa debutta come coalizione. Il primo esperimento parte in salita. Alle regionali di domani. Destra è favorita. E poi vediamo anche le questioni internazionali. L'Arabia dell'Iraq si prende le piazze. Occupata a Tahrir. Decine gli uccisi. Il fatto quotidiano. Fondi cooperazione a chi fabbrica armi. Il decreto fisco bloccato dal No dei Cinque Stelle sul MEF. Sulla norma infilata in extremis che apre le casse degli aiuti per il terzo mondo ai fornitori della difesa. E poi Roma fermati il pasticcere armato e il fan di Gomorra. Due giovani indiziati per la morte di Luca. Libero se la prendono con l'acqua. Ultima prodezza del governo Fradicio. Non bastava la tassa sulle bottiglie di plastica. I grillini vogliono chiedere anche 3 miliardi alle aziende che vendono la minerale. 40 mila posti a rischio. Bene un sorso. Costerà una fortuna. Domani voto in Umbria. E questi pensano di vincere con la foto ieri a Narni. Intanto D'Alema e Casaleggio in Ciuciano insieme in Albania per parlare di sicurezza e privacy. Il sole 24 ore. Evasione. Più intercettazioni e carcere. Fisco e manette. L'innalzamento delle pene previsto dal DL. Fiscale amplia lo spazio di controllo dei PM. A tre anni dal terremoto oggi manifestazione in centro Italia. Stalle ancora distrutte. e poi Deutsche Bank scontro BCE sul piano. Questa è l'altra notizia che troviamo sul sole 24 ore. Chiudiamo con avvenire prima di passare ai quotidiani sportivi. che apre con Corre la protesta. In Medio Oriente bruciano Iraq e Libano. Decine i morti. Strage a Baghdad. In Sud America attenzioni dal Cile alla Bolivia. E in Argentina ci sono elezioni difficili. Spinti anche dalla mobilitazione sui social network. Si moltiplicano i movimenti antigovernativi. I tanti italiani con la valigia partono giovani e intere famiglie. Rapporto migrantes via altre 128 mila persone. Il nuovo fenomeno è l'emorragia di coppie con figli piccoli. Umbria, voto pesante, sconto POS ai negozi. E poi arrestati i due ventunenni, come vediamo, per il delitto di Roma. Vediamo adesso le pagine dei quotidiani sportivi. Questo è il Corriere dello Sport. Con l'apertura brucia, si alza la temperatura della sfida tra la Juve e Conte. per effetto delle dichiarazioni del presidente bianconero, Andrea Agnelli. Intanto in alto la Roma va in pressing per il VAR dopo il rigore scandalo assegnato giovedì al Borussia Mönchengladbach. Maldini e Milan al top o vado via. Queste le parole del dirigente rossonero. Ibra furioso intanto. L'Italia lo aspetta e eliminato dai play-off negli Stati Uniti. Zlatan va all'attacco. Sono abituato a stadi come San Siro, ma Bologna e Napoli sono già alla finestra. E poi, per il regolamento, salvate gli arbitri dai mostri dell'IFAB. Le contraddizioni del regolamento, che sono evidentemente tante. Oggi giornata di campionato, come dicevamo, ore 15 il Lecce Juve, ore 18 c'è Inter Parma. Intanto, ieri la giornata si è aperta con il Sassuolo che ha vinto a Verona. Diuricic gol, il Sassuolo va di corsa. 0 a 1 per la formazione di De Zerbi. Berrettini è strepitoso, conquista la top 10. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport con l'intervista al terzino sinistro del Milan, Teo Hernández. Turbo Teo, torneremo in alto, fame di Champions. Voglio conquistarla qui. E Pioli mi esalta. Per i rossoneri mi sono tagliato lo stipendio, ma che bad boy sono casa e famiglia. Intanto, Tuono Maldini, avvisa Elliot, non aspetto anni per vincere. E a Berlusconi ha detto, è inelegante. A volte, ovviamente, non sempre. In alto, gli anticipi di oggi. Cristiano a riposo, l'attacco di Sarri riparte da Higuaín. Alle 15 c'è Lecce-Juventus. A 18 Interparma, un anno della presidenza Zang. Ricavi raddoppiati e futuro splendido. In alto, Berrettini nella storia. Quarto azzurro di sempre nella top 10 del tennis. Intanto, Vettel, freccia rossa. La Ferrari punta a prendersi l'Apple Position. Il tedesco è il più veloce nel free practice delle prove libere. In Messico, questa sera, le qualifiche alle ore 20. In basso, vale sempre. Ecco i miei primi 400 gran premi. Vi racconto i 10 che ho nel cuore. Intervista a Valentino Rossi. Chiudiamo con tutto sport. L'apertura è dedicata alla Juventus. Juve e i conti per Mbappé. Dopo l'aumento di capitale, la società bianconera studia il piano per arrivare al francese. In alto, Maldini attacca Berlusconi. Dopo le critiche di Silvio Agazzidis, sferzante a replica del totem rosso-nero, ci sono tante cose non dette su ciò che abbiamo trovato al Milan. Inter d'assalto. Tutto sull'autaro a esposito scalpita. E poi, segretissimo, dentro lo spogliatoio del toro, vi raccontiamo, si legge, l'area che tira al Filadelfia. In basso, tennis, top 10. Berrettini vede Londra. Noi ci fermiamo per questa prima parte dedicata alle prime pagine. Adesso le previsioni del tempo, la pubblicità. Poi torniamo insieme per sfogliare i nostri quotidiani.